Un cordiale saluto a tutti quanti e vi do il benvenuto in questa sessione webinar. Stasera parleremo, l'argomento di questo incontro, come sapete è la messa a rete di un VVR o comunque un oggetto IP che vogliamo gestire in rete. Per chi è la prima volta che approccia questo metodo di erogazione di corso, vi ricordo appunto questo webinar, ci sarà interattività grazie ad una chat, quindi voi potete scrivere in qualsiasi momento le vostre domande in chat, alle quali poi risponderò alla fine dell'incontro. Vi ricordo che fra qualche giorno sarà online nella sezione Corsi on demand, il video integrale, quindi la registrazione di questo incontro, sempre sul sito Academy. Dicevo, parleremo oggi, stasera, della messa a rete di un VVR. Vi spiego meglio. Andiamo a capire come andare appunto a poter gestire da remoto un VVR. o un VVR. Vuol dire che lo scopo di questo incontro lo chiamo un semplice tutorial, che sono le istruzioni molto semplici, ma schematiche, che appunto ci spiegano i passaggi che dobbiamo seguire per poter gestire da un app o da un pc o da qualsiasi dispositivo che si trova fuori dalla rete di casa nostra. Quindi parlo di aperte le porte, servizio DNS, oppure in maniera più semplice, lo vedremo in Coda, utilizzando invece il servizio cloud, quindi peer-to-peer. Allora, andiamo per gradi. Quello che vediamo nella prima slide è la situazione che andremo ad analizzare, ovvero parliamo di oggetti che sono nella rete LAN locale. Sono questi che vi sto indicando. Quindi nella rete domestica, con le tasa nostra, troviamo questi elementi. Innanzitutto troviamo il model router, che è l'unico e solo gateway tra rete LAN locale e rete esterna, ovvero il mondo internet. Troviamo i vari oggetti connessi alla rete LAN, ad esempio un pc, un pc, ad esempio oggetti wifi e troviamo il nostro DVR, che vogliamo gestire. Gestire cosa vuol dire? Vogliamo visualizzarlo tramite o un'app dedicata, una web app, oppure un browser. Quindi il nostro DVR sarà connesso alle proprie telecamere e il DVR è connesso anch'esso in rete locale tramite un cavo. Quindi questa linea di rimarcazione appunto suddivide il mondo locale, la rete LAN di casa nostra, dal mondo esterno, cioè il mondo internet. Ecco, ogni oggetto che fa parte del nostro impianto, sono appunto oggetti IP, quindi ognuno dei quali appunto un indirizzo IP. Quindi di norma è il model router che assegna l'indirizzo IP ai vari oggetti, oppure se i vari oggetti IP non sono in DHCP ma sono a indirizzo fisso, loro hanno un indirizzo IP appunto fisso. Quindi ad esempio un pc piuttosto che un telefono wifi, sono in DHCP, quindi l'indirizzo IP è assegnato dal nostro model router. I nostri DVR, DVR Bticino in questo esempio, ovviamente hanno un indirizzo preassegnato in fabbrica che è quello che vedete indicato 192.168.1.108. Quindi di fabbrica tutti i DVR Bticino hanno questo indirizzo fisso, ovviamente potrete cambiarlo. E di norma il model router, che è il ghetto e il principale del mio impianto, ha indirizzo 192.168.1.1. Quindi quello che cambia, come notate bene in questi tipi di indirizzi, è sempre il numero finale. Quindi quando leggiamo un 192.168.1. etc., parliamo di oggetti IP che fanno parte della rete LAN locale. Il model router, dicevo, è l'unico gateway, l'unica interfaccia tra mondo esterno e rete LAN. Quindi lui, il model router, ha due indirizzi IP. Uno è un indirizzo IP relativo alla rete LAN. Quindi, come dicevo prima, 192.168.1.1. E poi ha un indirizzo IP relativo invece al mondo internet. Che in questo esempio è 91.208.195.668. Vedete che è un indirizzo totalmente differente come composizione rispetto agli altri. Non è 192.168. È un numero, quindi indirizzo, che è assegnato dalla rete, in questo caso la rete internet, assegnato un indirizzo al nostro model router. Quindi lui, il model router, è un indirizzo assegnato dalla rete internet e ha un indirizzo IP invece che fa parte della rete LAN. Allora, il nostro scopo è quello di visualizzare le telecamere del nostro DVR, quindi le telecamere adesso associate e collegate, da remoto, ovvero non dal monitor che è eventualmente collegato del DVR, ma ad un altro dispositivo. Può essere un PC, può essere una app, eccetera. Allora, abbiamo due situazioni. La prima, la più semplice. Voglio visualizzare le telecamere del mio DVR da rete locale, cioè dall'interno della mia rete LAN. Quindi non dall'esterno. Ripeto, questo è facile. Molto banalmente, dovrò digitare, ad esempio, se utilizzassi un PC, l'indirizzo della rete LAN locale del mio DVR nella barra di indirizzi. Ricordo, vediamo che il nostro DVR ha indirizzo 192.68.1.108. Io digito questo indirizzo nella barra di indirizzi dei miei esempi in Internet Explorer e vado ad accedere alla pagina web, quindi al menu del mio DVR. Quindi, digitando l'indirizzo IP locale nel browser, accedo al menu principale, dove mi chiede il nome utente, la password, solo la login password del DVR, che può essere admin, admin, eccetera, eccetera. E basta. Facendo questa operazione, vado a visualizzare le telecamere sul mio browser. Oppure, se utilizzassi un'app, ad esempio l'app di Ticino, semplicemente dalla app dovrò inserire sempre, nei vari parametri, come vedete quello che vi sto indicando, l'indirizzo IP del mio DVR, 192.168.1.108. Ok? Ecco, fino a qua, ripeto, è facile, però è anche vero che ha poco senso che io visualizzi le telecamere dallo dispositivo all'interno della mia rete locale, è sufficiente appunto andare sul monitor del DVR. e ha invece lo scopo per più significativo, invece, visualizzare da rete esterna, quindi dal mondo interna, quindi io sono qua, in questo strato televisivo, voglio visualizzare i telecabili di casa mia. In questo caso, quindi, dovrò andare a interfacciare dei dispositivi che stanno al di fuori della rete locale, dove invece è collegato il mio DVR. anche qua abbiamo due situazioni. La prima è la più semplice. Il mio modern router, che ripeto, è l'unica interfaccia tra mondo internet e mondo interno, che è la rete LAN locale, ha un indirizzo IP fisso. Quindi, il famoso 9.1.208.195.68 è un esempio, non cambia mai. Nel senso che questo indirizzo è fisso, perché è fisso? Perché l'ho richiesto il mio gestore telefonico. Io richiedo, telecom, lavorafone, ciò che è il mio gestore telefonico, un servizio di IP fisso. Ecco, diciamo che questa è una situazione, più caldo per quanto riguarda la residenziale, abbastanza remota, nel senso che il servizio di IP fisso, innanzitutto, è costoso, è un servizio che è a pagamento e comunque, per quanto riguarda la residenziale, non tutti gli operatori, quindi i gestori telefonici, lo possono dare. Quindi è abbastanza difficile trovare una linea residenziale con IP fisso. Non è possibile, però abbastanza difficile. Ecco, in caso appunto di IP fisso, è tutto come prima. Visto che quell'indirizzo è fisso, non cambierà mai, io dovrò semplicemente utilizzare l'indirizzo, in questo caso 91.108.196.68, sui miei dispositivi. Quindi se utilizzo un browser, come quello di prima, lo inserisco nei vari strumenti, nei vari indirizzi scusate, oppure se utilizzassi delle app, utilizzo questo indirizzo. Perché ripeto, l'indirizzo non cambia, è fisso, quindi per puntare il mio 2R, utilizzerò quell'indirizzo. Secondo caso, anziché IP fisso, ho un IP dinamico, che è il caso molto molto più frequente, cioè l'indirizzo del mio gateway, cioè del mio router, lato internet, è dinamico, quindi non è sempre lo stesso, cambia. Quindi non ho richiesto servizio di IP fisso, o perché non voglio spendere soldi, o perché il gestore non lo fornisce, e quindi il gestore mi assegna l'indirizzo IP al mio router, e questo indirizzo IP può cambiare. Oggi è 91.208.195.68, domani può essere un altro numero, o fra un'ora, o fra due minuti, o fra tre anni. Perché può cambiare questo indirizzo? Perché o viene registrato dalla rete, nel gestore, oppure perché il mio model router si riavia, va via tensione, quindi può essere riavia, o lo riavia io per fare una riavia del sistema, e quindi l'indirizzo cambia. Quindi capite bene che in questo caso non posso utilizzare questo indirizzo P inserirlo nella barra di indirizzo di un browser, per esempio, perché questo non saprò se questo è sempre così, perché cambia. Quindi cosa devo fare? Devo appoggiarmi a dei portali dei siti che mi permettono di gestire il cosiddetto IP dinamico, creare degli host. Ecco, nello slide sono evidenziati i più famosi siti di host dinamico, di DNS, quindi parliamo di dandins.it, .com, .org, noip.com, eccetera, quali che vedete nella slide. Quindi io, prima cosa che devo fare è registrarmi su uno di questi, scelgo uno di questi servizi ovviamente, mi registro a uno di questi siti, dopodiché, in fase di registrazione, sceglierò una username e della password e il sito mi darà il mio host. Dipende dai vari siti, comunque se ad esempio scegliersi in dns.com, xxx rappresenta una desinenza che scelgo io come utente, qui ad esempio, potreste lorenzo.vilonna.dns.com. Quindi una volta registrati questi siti otterrò questi tre dati, cioè username, password e il mio host. Ecco, di norma quasi tutti questi siti sono gratuiti almeno per un account, per un host, che uno mi serve per gestire il mio NVR. Ecco, di solito in OIP, ad esempio, lo so perché l'utilizzo anch'io, un host è totalmente gratuito, però ogni mese devo andare a rinnovare, quindi arriva una mail dove mi dice con femminile dns.p, ci clicco sopra e questo per un altro mese continua a funzionare. Se invece utilizzassi il servizio a pagamento, che comunque parliamo di qualche decina di euro all'anno, non ho questa scocciatura e comunque posso gestire con un account più host, quindi più dispositivi. Comunque, una volta fatta la descrizione a uno di questi portali, ripeto, ottengo questi tre dati, l'host, username e password. A questo punto devo andare ad abilitare il mio model router a questo servizio, cioè si chiama servizio di DNS dinamico. Quindi, ad esempio, queste sono schermate del mio model router di casa, quindi è un modem dell'Alice, quindi della Telecom, ma bene o male i vari modem sono molto simili, magari cambiano un po' l'impostazione fotografica, ma le pagine sono quelle. Quindi devo andare nella sezione indicato come DNS dinamico e devo andare a abilitare questo servizio. Di norma i vari modem hanno già dei servizi già preassegnati, il fornitore di servizio qui c'è scritto, quindi il consiglio che do prima di andare a registrarvi in uno di questi siti che vi dicevo prima, verificate quali servizi sono contemplati nel vostro model router, comunque il NoIP e il DIN DNS sono quelli presenti in quasi tutti i model router, però per sicurezza prima visualizzate quali servizi sono contemplati nel vostro model router, dopodiché fate la descrizione al sito contemplato. A questo punto dicevo, andiamo a configurare il servizio DNS nel nostro model router, quindi selezionate il servizio, io ho fatto la descrizione al servizio dindns.org, questo esempio, e inserite qua i tre dati di prima, vi ricordo, sono questi tre, l'host che vi viene dato dal sito, username e password che avete scelto voi, e li inserite qui dentro, l'host, username e password. A questo punto avete abilitato il vostro model router ad essere interrogato dal servizio di OS dinamico, di DNS dinamico. Perché dico questo? Perché qual è la funzione di questi siti? È quella di continuare a interrogare in maniera ciclica il vostro model router, è quella di verificare in questa interrogazione qual è l'attuale indirizzo P, visto che questo può cambiare, visto che è il P dinamico, il nostro sito di host di DNS dinamico è sempre aggiornato perché continua ad interrogare il model router. Quindi il model router deve sapere essere abilitato da parte di questo servizio. E questo vuol dire abilitare DNS dinamico di un model router. bene, fatta questa operazione, dobbiamo andare ad aprire le porte. Ecco, spesso e volte si sente dominare questa cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro model router delle porte, porte che vengono utilizzate per la gestione del flusso dati, che serve appunto per fare passare le informazioni di vari dispositivi. Quindi ogni dispositivo, il PC, il telefono, il DVR, utilizzano le porte ben precise. Quindi io gli devo, ovviamente, aprire la porta, c'è la strada, che dal model router porta al, in questo caso, al mio DVR. Quindi col servizio DNS io arriverò qua dall'esterno, cioè al model router. Poi dal model router devo arrivare fino al DVR e devo aprire la strada tra model router e DVR, quindi aprire le porte. Quindi innanzitutto devo sapere quali porte utilizza il mio DVR sul model router. Come faccio? Semplicemente devo andare nel menu del mio model router. Scusate, nel menu del mio DVR. Questo è uno screenshot del mio DVR. Vado nella sezione network, quindi il menu di rete. E nelle varie, nella schermata principale di questo menu, troviamo le informazioni che mi servono. Le trovate in GZP, che vi diceva è 1, 2, 1, 6, 8, 1, 108. Perché vedete, è inserito come statico. Se io qui andasse a cambiare, lo mettesse in dinamico, questo 108 cambierebbe. E qui troviamo le porte che mi possono, cioè le porte che utilizza il DVR come comunicazione. Vediamo, client port 37777, HTT port è la porta interna, quella utilizzata da tutti i dispositivi, che è la HTC, che è la 8080 e in questo caso la mobile port 34778. Quindi semplicemente sono andato in questa pagina del menu del DVR per capire quali sono le porte utilizzate appunto dal mio DVR. Quindi ho capito quali sono le porte utilizzate. Quindi il mio DVR, l'ho scritto qua, per semplicità di lettura, utilizza queste tre porte. 8080, 37777 e la 34778. Quindi il prossimo step sarà quello di andare sul modern router e aprire queste porte, in modo tale che ho il passaggio pieno da modern router al DVR. Come faccio? Torno nel menu del mio modern router e vado nel sezione port mapping, port port for, for one, eccetera eccetera, ho aperto da porte. Quindi andando in questo menu, devo andare a aggiungere delle porte da aprire. Ecco qui ho aperto a uno per farvi un esempio. Quindi semplicemente, nome, lo posso chiamare DVR, indirizzo, è l'indirizzo qui, locale, l'indirizzo, quindi 192, 168, 1, 108, ad esempio. Voglio aprire la porta 80, quindi inserire la porta 8080 e attiva. Quindi io adesso ho aperto la porta HTTP, vi ricordo che ho altre due porte, la client e la mobile, quindi farò la stessa operazione per la 37777 delle altre porte. Quindi avrò tre porte aperte, che adesso non sono una, come esempio, ma ripeto, non ho aperto tutte e tre. Quindi ho aperto le porte che servono per il mio DVR. Quindi tre porte utilizzate nel DVR, le stesse, le ho riportate qua, sono state aperte sul mio modem router. Bene. Altra cosa importante, nella sezione, quindi torniamo nel menu del mio DVR, devo andare, appunto, accettarmi che il tipo di indirizzo sia statico, perché se questo cambia, io ho aperto la porta nel modem router utilizzando l'indirizzo 108, se fra un'ora e 109 la porta non sarà più aperta. Quindi devo ricordarmi di avere un indirizzo statico sul mio DVR. di norma già preimpostato, ci accertiamo, quindi statico e l'indirizzo è quello che abbiamo utilizzato per la prattura delle porte. E ricordiamoci, qualora non sia già compilato, di uscire il indirizzo del gateway, cioè del mio modern route, che è di solito appunto del 192.168.1.1. Un'altra cosa importante è la seguente, dobbiamo accertarsi che nel DVR non sia abilitato il servizio DNS. Vi spiego meglio. Il servizio DNS l'abbiamo abilitato, è stata la prima operazione, nel modern router. Non devo farlo anche nel DVR, perché il modern router è l'unico oggetto che comunica direttamente con il mondo internet. Il DVR non è connesso all'internet, è connesso in rete locale al modern router. Quindi il servizio DNS nel DVR deve essere disabilitato. Invece lo devo abilitare, ripeto, è stata la prima operazione soltanto sul nostro modern router. Ok, le operazioni le ho finite. Quindi abbiamo abilitato, abbiamo creato il servizio DNS dinamico con due requisiti, ci siamo iscritti, abbiamo recuperato le informazioni, abbiamo abilitato il modern router questo servizio, dopodiché abbiamo verificato quali porti sono utilizzate nel DVR e l'abbiamo finito. A questo punto il mio DVR è pronto per essere raggiunto anche dall'esterno della mia rete locale. E come faccio? Allora ho diverse possibilità. Innanzitutto posso utilizzare, ad esempio, un software, in questo caso VTC, che si chiama VTC Surveillance Client. È un software, ovviamente gratuito, che o è scaricabile da qualsiasi sito di download VTC oppure lo trovate già su un mini DVD all'interno degli DVR oppure NUR. Questo software, poi ve lo faccio vedere, è un software molto semplice da installare su qualsiasi PC, vi permette di visualizzare che cosa? Il vostro DVR o i vostri DVR, quindi può gestire più impianti contemporaneamente. Quindi, ripeto, un software compatibile con tutti i DVR analogici, HD oppure anche gli NUR, quindi parliamo di tecnologie IP. Quindi, se, ripeto, devo visualizzare costantemente un DVR o più impianti, quindi PDVR, allora è consigliabile utilizzare un software installato sul PC. Oppure se io ho una esigenza di un accesso occasionale, quindi ogni tanto voglio dare un'occhiata senza dover installare il software, posso andare semplicemente a gestire tutto tramite un browser. Quindi, per quanto riguarda PC, è consigliabile Internet Explorer, oppure Safari per quanto riguarda Mac. Ecco, se utilizzassi il software, cosa devo fare? Molto semplicemente, lo strano ovviamente, nella semplice unica pagina in configurazione, dovrà inserire, vedete qui dentro, che cosa? Semplicemente dovrà inserire soltanto il lost dinamico che mi ha creato il sito di DNS. In questo esempio è lorenzo.vilonna, ns0.it. La porta è la porta client, che utilizza il DVR e il BTC, che abbiamo visto prima, la 37777, che abbiamo aperto anche sul nostro model router. nome utente, passo, solo il nome utente, passo del DVR, che di default è admin admin. Fatta questa cosa, quindi molto semplice, quindi l'indirizzo IP che viene richiesto dal software non è l'indirizzo IP locale del DVR, 192.168.1.108, ma ovviamente è l'indirizzo, è la stringa host che è creato appunto il sito. Fatta questa semplice operazione, dal mio PC attraverso questo software, per visualizzerò, questo esempio, sono tre telecamere, del mio DVR. Invece, se io volessi utilizzare un browser, quindi non il software, tutto come prima, però affiché digitare l'indirizzo IP fisso del mio DVR, andrò ad inserire anche qui dentro la stringa del host name, quindi creata dal servizio DNS dinamico, che anche in questo caso vedete, lorenzo.vnl.s0.it, 2.8080, perché in questo caso la porta HTTP, visto che sto usando un browser internet. Anche questa, l'8080, è stata aperta nel model router. E poi qui accediamo, come prima se vi ricordate, alla pagina iniziale del DVR, anche qua, nome e password del DVR, e la porta clave che è già comunque precompilata. E qui visualizziamo, questa è la pagina web del DVR. Quindi non è più l'app, ma è tutto il browser. Oppure posso utilizzare un'app. L'app BTCino si chiama BTCino CCTV. Anche questo scaricabile da tutti i siti di BTCino gratuitamente per Apple piuttosto che per Android. Anche qua, semplicemente, l'app. Ho fatto delle screen short, gestire i dispositivi, inserite l'IP, anche qua, lorenzo.vnl.s0.it, la porta 37777. E visualizzate tra l'app le telecamere. Ok? Ecco. Tutto questo che vi ho fatto vedere, finora, riguarda la messa in rete, di qualsiasi il dispositivo, di qualsiasi riguardo, che sia BTCino o non. Ok? Quindi devo andare a fare queste operazioni e vedete, quella che a fine serve è la stringa post, lorenzo.vnl.s0.it, eccetera, eccetera, e la login e passo, che andrò a siedire nelle varie app, piuttosto che nelle varie indirizzi dei vari browser. Ecco, da poco tempo, nel catalogo BTCino, sono comparsi dei nuovi DVR HD, piuttosto che NUR, con un servizio peer-to-peer. Quindi vuol dire che BTCino mette a disposizione dei clienti gratuitamente il servizio cloud. Quindi, sul catalogo, quando trovate questa icona peer-to-peer, quando trovate il BTCino camera viewer, vuol dire che questo oggetto, in questo caso, questo DVR, è un dispositivo che posso visualizzare tramite l'app, quella che abbiamo fatto vedere, che si chiama CCTV, ed è un dispositivo peer-to-peer, cioè che utilizza il servizio cloud. Quindi, se io utilizzassi un oggetto che supporta il servizio cloud, in questo caso il servizio gratis del BTCino, non devo assolutamente neanche pensare, neanche ricordarmi tutto ciò che abbiamo visto finora. Quindi non devo né pensare all'epifisso epidinamico, né sapere qual è l'indirizzo del mio DVR, né andare a mettere in mano a un modern router, e neanche, ovviamente, aprire le porte del modern router. Quindi, questo servizio ci permette, in maniera molto più semplice, di visualizzare, da remoto anche locale, il mio DVR o NWR che sia. Quindi, se voi utilizzassi, ripeto, uno di questi prodotti di BTCino, accanto, questi sono le NWR più E, tra l'altro sono le NWR che hanno al loro interno, anche lo switch, 4, 8, 6 canali più E, e sono, appunto, come potete leggere dal logo a fianco dell'oggetto, peer-to-peer. Ecco, in questo caso cosa devo fare? Allora, molto più semplicemente, se io voglio accedere da remoto attraverso il software, cosa devo fare? Allora, il software è lo stesso di prima, identico. Quindi, anziché, appunto, il BTCino service client, lo installo. Quando vado, vi ricordate la schermata iniziale, impostazioni, ecco, qui dentro non ci inserisco più il NWR del mio DVR, cioè dell'host creato, del DNS dinamico, ma vedete, vedete, una serie di numeri lettere, di etiologia, eccetera, eccetera. Cosa sono? Questi qui sono dei, è un codice univoco che contraddistingue ogni DVR, o ogni NWR, ovviamente, parliamo di peer-to-peer. Ok? Vuol dire che su ogni dispositivo è presente un QuarkCoder, poi vediamo cosa serve, e sotto il QuarkCoder c'è questa stringa di alfa numerica. Quindi voi qui dentro copiate letteralmente questa sigla. La porta che utilizza questo tipo di oggetti, li trovate anche scritti sopra, è la 9000. Ok? E poi, anche qui, non mettete il password. E quindi, come prima, visualizzate le telecamere da remoto, o anche da retro locale. Senza, ripeto, aver dovuto mettere minimamente mano al modern router di casa. Se utilizzassi la app, la stessa app di prima, quindi inserire i dispositivi, anziché andare a inserire i indirizzi P, che vi ricordo prima era Lorenzo, .b.no, eccetera, eccetera. Qui dovete semplicemente, in maniera più semplice ancora, scusate il gioco di parole, cliccare sul questo simbolo del QuarkCoder, si apre la fotocamera del vostro device, del vostro smartphone, in questo caso, e andate a inquadrare il QuarkCoder, che ho detto prima, che è presente, questo è l'endware, l'endware che sia, appunto, che è presente su un adesivo incollato sul dispositivo. In automatico, l'app legge il QuarkCoder, ovviamente, riporta questa serie di numeri e lettere. Quindi, anche se scrive la manina, come avete fatto prima, tramite il software, qui è ancora più semplice, tramite la fotocamera, lo importate, ovviamente i PC difficilmente hanno una fotocamera, quindi in device mobile si presta questa funzione. Quindi, in QuarkCoder viene importato il codice univoco e siete online. Quindi, avete capito la grossa differenza di semplicità, soprattutto, tra la messa a rete di un IWR o un IWR col metodo classico, quindi mi devo appoggiare a un sito di DNS dinamico, qualora ci sia un IP dinamico, ovviamente, se avesse un IP fisso è molto più semplice, oppure, utilizzare, invece, un servizio di cloud, che ripeto, il BTC lo mette a disposizione gratuitamente con i prodotti BTC, un IWR o un IWR che siano, peer to peer. Lo ripeto ancora una volta, le istruzioni che vi ho dato per la messa a rete di un IWR o un IWR in maniera classica valvano per qualsiasi siti positivo. Quindi, è sicuramente un metodo che vi può tenere utile anche in altre situazioni. Bene, io qui ho concluso. Vi ringrazio per la vostra contesa attenzione, numerosa partecipazione molto attiva, tra l'altro, e vi do appuntamento alla prossima stituzione webinar. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie a tutti.